Musica Ben ritrovati da Bocca di Falco, tifosi rosa nero, il Palermo riprende la preparazione ovviamente con il sorriso dopo la sfida contro il Bologna che ha portato in dote alla formazione di Mutti i primi tre punti lontano dallo stadio Renzo Barbera per il rosa nero dopo un lavoro in palestra delle esercitazioni di carattere tecnico in campo infine la classica partita finale in porzione ridotta del campo Mattia Silvestri oggi ha intensificato l'attività di riatletizzazione vi diamo anche conto di due indagini strumentali svolte oggi sui nostri calciatori in particolare su Mattias Aguirre Garai che appunto si è sottoposto a degli esami che hanno evidenziato la lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro per quanto riguarda invece Federico Balzaretti è confermata la prima diagnosi emessa dal dottor Roberto Matracia Sabato ovvero di distrazione muscolare di primo grado dell'adduttore breve sinistro noi adesso ci andiamo a vedere alcune fasi dell'allenamento dei rosa nero in particolare relative alle esercitazioni tecniche si, 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 e la porti via fatti bene il campo ragazzi 1, 3, saltato 5, 1, 2, 3 1, 2, 3, saltati bene 3, 4, 5, 6 vai, 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 vai vai, vai, portala, via, vienila, 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 vienila portala, vienila, prendila, rivessa 1, 2, 3, saltati bene 1, 2, 3, saltati bene 4, 5, 6, vai 1, 2, 3, saltati bene vai, 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 1, 2, 3, saltati bene 1, 2, saltati bene 1, 2, saltati bene 1, 2, 3, saltati bene 1, 2, saltati bene 1, 2, 3, 4